La settimana scorsa il Panatron Club Imperie Sanremo ha festeggiato i 50 anni del suo premio Morosetti, un riconoscimento che venne istituito solo pochi anni dopo la creazione dello stesso Panatron provinciale, per onorare il ricordo di uno dei suoi fondatori, Adriano Morosetti. Morosetti era un grosso sportivo, ma è stato per esempio per 7 anni il presidente della Sanremese, già figlio d'arte nel senso che il padre era stato presidente durante la guerra, il secondo conflitto, quindi lui era stato presidente della Sanremese e l'aveva portata quasi in serie B, diciamo che solo Borra ha avuto le stesse durate come presidenza e appunto nel 1960 lui è mancato e il Panatron che è nato nel 58 con appunto queste 8 persone lui il Panatron ha pensato bene di intitolare un premio a Morosetti, Adriano Morosetti, questo è un premio vecchissimo ma per me molto importante perché non solo premia il miglior atleta della provincia d'Imperia o almeno l'atleta che ha conseguito il titolo migliore nella provincia d'Imperia, possibilmente giovane, ma comunque è un atleta diciamo che noi preferiamo il giovane che va avanti, ma premia anche la società e questa è una cosa importante che forse alle volte sfugge e non gli si dà sufficientemente risalto. Il primo a vincere il premio fu nel 1961 l'atleta della Maurina Imperia Alberto Pico per aver conquistato il titolo tricolore di salto in alto negli Juniores. L'anno dopo il Morosetti andò al giovane Amilcare Balestrieri, campione di motociclismo. Perché io ho iniziato, come qualcuno ricorderà, perché ho passato tanti anni, ho cominciato con le moto e andavo abbastanza bene, ho vinto quattro campionati italiani e poi come forse qualcuno sa sono passato all'automobilismo facendo i rally e mi sono divertito tutta la vita facendo questa attività che era la mia passione principale. Ecco, allora tu il premio Morosetti l'hai vinto che eri molto giovane, l'hai vinto per aver vinto il campionato italiano della montagna nella classe 175, ti ricordi? Esatto, ho corso sempre con la moto B ufficiale che era la Benelli di Pesaro e poi ho continuato con quella vincendo altri campionati negli anni successivi e finché nel 65 poi ho smesso con tante soddisfazioni, però ci sono dei motivi che adesso sono troppo lunghi a spiegare, ho smesso perché appunto morivano come le mosche e quindi avevo già due figli e ho pensato di smettere. Quello con i motori è sempre stato un amore vero da queste parti, dopo Amilcare nel 1970 il Morosetti andò al compianto Paolo Isnardi e nel 1982 a Pierfranco Muraglia per aver vinto il titolo italiano assoluto di Enduro. Premio Morosetti è Chico Muraglia, campione del mondo nell'enduro classe 80 e quello che dice di averti scoperto Carlo Brizio ai tempi direttore sportivo del Motoclub Sanremo poi diventato presidente, è vero? Ha ragione, completamente ragione. E lui che mi ha iniziato mi ha portato in giro quando non avevo la patente, lui e Minazzo mi hanno sempre portato in giro finché non ho avuto la patente. Poi dopo ho cominciato a migliorare, lui ha smesso e io ho continuato. Allora lui mi seguiva come direttore sportivo del Motoclub Sanremo. Raccontaci un po' come l'hai trovato, come l'hai scoperto, come è stato questo aneddoto? Niente, una sera dove avevamo la sede del Motoclub in un bar e si è presentato un ragazzino che non era tanto alto e che però riusciva a fare tutta via la marmora col motorino in monoruota. Lui ho detto cacchio, quello lì potrebbe fare della strada perché se va bene con una ruota sola, chissà con due. E di fatti ci ha dato grande soddisfazione e in merito dei suoi risultati il Motoclub Sanremo ha avuto una grande espansione che in quel periodo altri ragazzi che correvano ottenevano dei buoni risultati a livello nazionale e internazionale e per un decennio, anche per un ventennio, il Motoclub Sanremo è stato quasi ai vertici a livello nazionale. Sì perché dopo di te sono arrivati altri premi in Morosetti perché ci sono stati altri campioni del mondo. Sì sono venuti Gianmarco Rossi, Modena, Grasso, un mucchio di piloti bravi che sono venuti nel Motoclub Sanremo grazie, non dico a me, però grazie al Motoclub Sanremo che si è anche impegnato a andare in giro per tutta Italia e per tutta Europa a portare in giro il nome di Sanremo e i piloti che venivano al Motoclub Sanremo. Anche l'atletica leggera ha visto tanti premi Morosetti, addirittura sei sino al 1974, un movimento importante in provincia d'Imperia che viveva anche della rivalità tra Maurina Imperia e Foce Sanremo. Una delle poche eccezioni la si deve a Patrizia Morreale che nel 1985 con la maglia dello Sport Club Ventimiglia vinse il Morosetti dopo aver conquistato il titolo di campionessa italiana allievi negli 800 metri piani. Il premio Morosetti di cui questa sera si celebra il suo cinquantesimo anno di fondazione rappresenta la storia di tutto il movimento sportivo periese perché di anno in anno gli amici del Panto ha saputo scegliere tra una certa schiera di personaggi che hanno dato molto allo sport attraverso i loro risultati quelli che i migliori che poi sono messi all'onore della cronaca. Qua di fianco a te Presidente c'è una delle premiate, Patrizia Morreale. Io credo che per voi che vi siete rivisti dopo tanti anni non si tratti soltanto di una rimpatriata ma io ho visto anche dell'emozione in questo incontro soprattutto di oggi pomeriggio. Esattamente, in quanto anche se sono passati diversi anni comunque il ricordo c'è sempre. Sono state delle belle soddisfazioni. Tu eri campionessa di? Campionessa italiana di mezzofondo. Mezzofondo significa 800 metri, 1500 metri. Sì, sono stata campionessa italiana juniores e anche promesse. Di 20 miglia sei? Sì, io all'inizio ho gareggiato per una società piccolina, lo sport club 20 miglia. Eravamo pochissimi atleti, comunque non si contavano più di 20 atleti. E poi sono passata a una società un po' più grande, infatti abbiamo ottenuto un bellissimo risultato con il CUS Cariparma. L'atletica leggera è uno sport ormai in evidente declino in Italia. Da anni non esiste un campione di riferimento nonostante i tanti naturalizzati e anche la nostra provincia non fa purtroppo eccezione. I ragazzi si rivolgono ad altri sport, ciclismo, canottaggio, pallanuoto, arti marziali, volley. Ed è così che gli ultimi due morosetti che vi presentiamo stasera sono Patrizia Prosperi che nel 73 si laureò campionessa italiana allieve sui 400 piani con la maglia della foce ed Emanuele Pagani che giovanissimo nel 2007 vinse il mondiale rock nei go-kart. Allora, altri due premi morosetti incontrati qua alla cena ufficiale di gala del campo golf. Alla mia sinistra Patrizia Prosperi nell'atletica e alla mia destra uno degli ultimi premi Morosetti e Emanuele Pagani il più giovane dei premiati presenti questa sera. Allora Patrizia che ricordi hai di quel premio Morosetti? Un ottimo ricordo, ero in questo bellissimo posto con papà, mi aveva accompagnato papà, anche lui molto molto emozionato. Ti avevano premiato per? Per il titolo italiano sui 400 metri. Sono passati un po' di anni ma comunque il ricordo è molto vivo, molto presente e anche i miei genitori mi hanno sempre sostenuto quando ho detto mamma guarda che torno erano molto molto contenti anche loro. Te Emanuele Pagani campione di kart, com'è andata poi l'evoluzione della tua carriera? È stata la mia prima grande vittoria questa. L'anno dopo ho fatto un campionato italiano sempre della stessa categoria, la ROC e sono riuscito a vincere tutto in quella categoria. Poi ho fatto una gara particolare che è stata disputata a Las Vegas e sono riuscito anche lì a vincere, infatti è stata anche quella, nonostante la vittoria del 2007 quella è stata una secondo me forse la più soddisfacente. Gli ultimi premi Morosetti, quelli degli anni 2000, sono andati al golfista Cristian Lanza, al nuotatore Matteo Carli, alla non vedente Maria Luisa Di Stefano per l'equitazione, al tennista Fabio Fognini, a Matteo Varnier per il beach volley, a Luca Barla per il ciclismo, a Guido Carli per il windsurf, a Giulia Emmolo per la pallanuoto, ad Alessandra Ravotto per il jiu-jitsu e Simone Parodi per il volley. Hanno ricordato questo Morosetti veramente in un modo incommiabile perché ognuno quando la domanda, diritto, cosa hai fatto prima e dopo, per loro è stata un'emozione, anzi oggi a dire di più perché dopo 50 anni, 30, 40 alcuni che hanno preso questo ambito premio, sono ritrovati a confronto, in diretto, chi vivevano quella giornata. E' stato un attimo meraviglioso per il pallanuoto che stiamo seminando in un modo migliore nella scelta dell'atleta e l'importanza che ha preso questo premio perché io mi rendo conto che da quando è stato, io sono un po' di anni che sono nel pallanuoto, che facciamo questo Morosetti e la selezione è severa, però ereditizia perché ognuno di noi abbiamo dei campioni, ogni panatleta, ogni Morosetti scelto ha fatto una bella carriera, quelli che non ci sono, non ci sono più i limiti di età ma sono ancora bravissimi, oggi ci siamo incontrati tutti entusiasti di far parte del Pantro e di aver preso a loro tempo i primi Morosetti, quindi io mi auguro di poter continuare, sono io come presidente e chi mi succederà, a premiare questi bravissimi atleti che veramente questi atleti se lo guadagnano le Morosetti con fatica e sacrificio come è giusto che sia uno che fa sport seriamente.